Riguardo ai trend per la comunicazione integrata, domanda molto interessante. Dal nostro punto di vista c'è un trend di convergenza. Convergenza dei canali, convergenza dei contenuti, convergenza delle audience e dei brand. Questo significa da un lato che la comunicazione deve adattarsi allo scenario più frammentato dei canali digitali e sociali e dall'altro lato deve sfruttare quelle che sono le tecnologie che rendono possibile la performance, il miglioramento delle performance, quali ad esempio la marketing automation e così via. Questo è un tema molto interessante perché dà la possibilità davvero ai brand di comunicare con contenuti diversi verso le target audience più opportune e quindi poi veicolarle verso i propri presidi digitali. Non c'è una soluzione magica, non c'è una ricetta magica purtroppo ai noi. Se ci fosse mi piacerebbe brevettarla, ma di fatto non c'è. La verità è che le leggi del marketing, alcune regole del marketing non cambiano mai. Bisogna capire molto bene quali sono le esigenze di brand, quali sono le esigenze commerciali, quali sono le esigenze strategiche quindi delle aziende e delle marche. E questo non si fa soltanto guardando in casa propria, guardando l'azienda, ma facendo anche benchmark, analizzando quello che fanno i competitor, stando attenti ai trend di settore, ai trend di contenuto. Questo è fondamentale. Dopo questa analisi poi, ripeto, non c'è una ricetta magica, ma certamente la parte di analisi è proponderante e poi c'è una parte creativa. La parte creativa ci consente di arrivare alle target audience in maniera ingaggiante, performante, di coinvolgerli in quelli che sono i percorsi di comunicazione di marca. Per cui non c'è una ricetta magica, ma certamente la combinazione anche qui e convergenza di strategia, di creatività e di innovazione in termini di design e tecnologia, credo che sia un mix più corretto oggi per fare i percorsi di marca migliori.